segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te buon piani cosa rischiamo adesso beh quando lo scrittore cos'è bergamin tornò in spagna nella spagna franchista dall'esilio alla frontiera gli fecero questa domanda lei è comunista e lui rispose io non sono comunista ma tutto quello che voi credete che sia un comunista sì secondo me la stessa una cosa analoga si può dire della meroni lei probabilmente non è fascista ma tutto quello che noi crediamo che sia un fascista sì questo cosa implica dal suo punto di vista cosa implica beh secondo me questo implica un desiderio prioritario principale insomma importantissimo di potere secondo me fascista una persona che vuole soprattutto il potere per esercitarlo sulle minoranze perché è più facile perché è più facile perfetto segretario del pd allora il ricambio sarà veloce indolore indolore chi chi deve avere paura della della meloni sono le minoranze ma il problema è che tutti siamo minoranze le masse sono solo la gente vista da lontano ma se ti avvicini ognuno è una minoranza e quindi io credo che ognuno avrà da temere giuli